Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi iniziamo la rubrica dedicata a Consigliami un libro per... Quindi se avete dei libri che volete scoprire su un tema in particolare scrivetemelo giù nei commenti che vi rispondo nei prossimi video. Ma andiamo alla domanda di oggi. Hai dei libri da consigliarmi? Bimbo 5 anni appassionato di macchine d'epoca. Il primo libro che ti consiglio è questo. È un libro magnifico dello stesso autore di questo libro qui. Quindi fa parte di questa serie dei libri illustrati con tutti i colori. Questo è uno per esempio amatissimo dai miei figli. Noi non abbiamo quello dedicato alle auto ma per un bambino che ama l'automobile assolutamente quello lo metto al primo posto. È trasversale, piace a tutte le tappi, piace anche agli adulti. L'interno di questi libri è molto colorato e assolutamente unico e particolare ed è uno di quei libri che assolutamente rimane nella libreria anche quando il bambino è più grande. Un secondo libro che consiglio è questo qui. Sicuramente a livello illustrativo rispetto al precedente un po' meno particolare e anche meno bello quando si cresce ma comunque un libro interessante, colorato, non particolarmente impegnativo che può piacere sicuramente a tanti bambini. Un libro da portarsi invece avanti nel tempo e leggere magari la sera con calma può essere questo qui che racconta la storia dell'automobile sempre chiaramente adattata ai bambini però può essere davvero uno spunto interessante poi magari per poter andare a ricercare quelle determinate auto magari su internet quindi cercare le fotografie, compararle con i disegni, capire in che periodo storico sono ambientate quindi un libro molto interessante anche per bambini della scuola primaria. Un altro libro che secondo me non può mancare nella libreria di un bambino che ama le auto d'epoca è questo, il libro delle auto d'epoca da colorare. Questo declinato in tantissimi argomenti è un libro che i bambini amano di cui prendersi cura insegnando al bambino a colorare con una certa diciamo cura per l'oggetto, fare una macchinina ogni tanto, è perfetto da portare per esempio al ristorante o quando si viaggia in treno, noi lo utilizziamo spesso come tipologia di libro e per un bambino che ama questo argomento è assolutamente da avere. L'ultimo libro che vi consiglio se i vostri figli sono amanti delle auto d'epoca e questo noi lo abbiamo in libreria ma non ce l'ho qui da farvi vedere perché è nella casa in campagna è il grande libro degli autobus non tratta di automobili ma bensì appunto di mezzi pesanti di autobus è un libro stupendo una sorta di enciclopedia ma assolutamente adattissima ai bambini un pochettino anche più grandi che quindi vogliono approfondire ma con delle illustrazioni spettacolari davvero stupende io l'ho anche regalato alla scuola di mia figlia una copia da tenere lì perché secondo me analizza bene alcune alcuni periodi storici attraverso proprio dei disegni stupendi degli autobus e di cosa cosa servivano come venivano utilizzati questi mezzi nei vari periodi storici è stupendo quindi pure questo ve lo consiglio ed è un libro che piace molto anche agli adulti quindi può essere anche un bel regalo per un adulto appassionato di auto o appunto mezzi d'epoca così come anche il primo che vi ho consigliato quindi anche quello lo trovo molto adatto anche per un adulto appassionato del genere bene questi erano i miei consigli per i libri dedicati a un bambino appassionato di auto d'epoca se ripeto avete altre richieste particolari lasciatemele giù e vi rispondo nei prossimi video un bacio e alla prossima ciao ciao